Bisognerà attendere l'esito della riunione del Comitato per la Sicurezza e l'Ordine Pubblico convocato per domani pomeriggio prima di avere una valutazione ufficiale sul Jova Beach Party a Montesilvano. Questa mattina intanto è importante riunione tecnica. In Prefettura Pescara la presenza degli organizzatori, amministratori pubblici del Comune di Montesilvano, il Comandante della Direzione Marittima di Pescara dei Carolis e il Vice Prefetto Vicario. Sul tavolo la planimetria dell'area dove dovrebbe svolgersi il prossimo 7 settembre il grande evento per il quale è attesa la presenza di non meno di 35.000 persone. Numeri da capogiro che impongono una serie di misure estremamente rigide, dal piano della viabilità all'accesso nell'area concerto ma anche dal mare, visto che il concerto si tiene in spiaggia. Su questo aspetto si sono concentrate le maggiori attenzioni del Comandante della Direzione Marittima dei Carolis che ha chiesto agli organizzatori le più ampie garanzie nel rispetto delle normative assicurando il massimo appoggio nella tutela e controllo dell'area demaniale. Sul piano della mobilità invece presenti i rappresentanti di Tua e Sangritana. Gran parte delle questioni sono state definite già ieri a Montesilvano con l'individuazione di alcune ampie aree parcheggio dal mercato ortofrutticolo di Villanova all'interporto di Manopello ma anche ad una cospicua parte del parcheggio dell'outlet Village di Città Sant'Angelo. Chissura strade dalle prime ore del 7 settembre da Via Arno fino ai grandi alberghi. Area nevette individuata tra Via Arno e Via Adige. I mezzi arriveranno da Santa Filomena, faranno scendere le persone su Via Arno e riprenderanno da Via Adige in direzione a Satrezzato, così a fine concerto per il ritorno nei luoghi dove sono state lasciate le auto. Tuttavia prima di una valutazione definitiva bisognerà attendere la riunione del Comitato per la Sicurezza e l'Ordine Pubblico prevista per domani pomeriggio alle 17 in Prefettura.